Sono Tiziana Grassi e ho l'onore di essere il primario dell'ospedale delle bambole, quarta generazione di una famiglia di dottori, tutti maschi, la prima primario donna. L'ospedale delle bambole è un luogo dove da circa quattro generazioni ci occupiamo della salute dei giocattoli. Lo facciamo con grande passione, anche perché i giocattoli sono un pezzo di vita molto importante per i bambini, per cui quando una persona si lega a un giocattolo lo conserva per tutta la vita e vuole sicuramente dargli nuove occasioni. E quindi tutto nasce nel 1895 in via San Biagio di Brea 81, in questa piccolissima bottiguccia di Spacca Napoli, dove il mio bisnonno Luigi Grassi iniziò con una scenografia del teatro dei pupi, poi da lì andò a finire, aggiustava anche dei pupi di scena e poi la gente passando vedeva queste teste dei pupi, qualche braccio, perché lui oltre a fare le scenografie aggiustava anche i pupi e a un certo punto una signora gli chiese per piacere, non è che mi potrebbe aggiustare questa bambola. Siccome in quel periodo sicuramente c'era sempre bisogno di un po' di lavoro in più, lui non si sottrasse a questo lavoro. Ed è così che in poco tempo il lavoro venne molto bene, si riempì di bambole la piccola bottega e una signora del quartiere passando di lì disse mamma mia che impressione, mi pare proprio ospitare le bambole. E così il mio bisnonno aveva questa intuizione, prese una tavoletta di legno, prese un po' di pittura rossa che aveva e scrisse ospedale le bambole, l'unica cosa che ci appose è una croce rossa. Sicuramente questo è un luogo che poteva nascere solo a Napoli, ma non è tanto questa la cosa importante, la cosa importante è che resiste a Napoli, perché alla fine dell'Ottocento, principi del Novecento, un po' sparsi in tutta Europa, in tutta Italia, c'erano delle piccole cliniche delle bambole, ma erano delle retro bottega dei giocattolai. Noi siamo riusciti a sostenerla questa cosa, ora l'abbiamo sostenuta sicuramente grazie al popolo, grazie a Napoli, ma io devo dire un grazie a mio padre, perché mio padre come vi ho detto è veramente stato un faro in questa strada così tanti anni fa maledetta, perché è una strada che è rimasta molto abbandonata, quindi era una città molto difficile, specialmente nel centro storico, e lui non ha mai smesso di illuminarla, dando sempre parole buone alle persone del quartiere, mettendosi sempre a disposizione e avendo sempre questa clientela di un livello altissimo, quindi venivano queste persone meravigliose, ma veniva anche la signora del popolo o quella del dormitorio o la suora che aveva avuto regalato la bambola vestita da suora. Tutti i miei avi, e oggi ancora io, dovevamo affiancare all'attività di restauro qualcos'altro, quindi il mio bisnonno faceva le scenografie del teatro dei pupi e poi aggiustava le bambole, mio nonno era un grandissimo gallerista di quadri e poi aggiustava le bambole, mio padre era un bravissimo antiquario e poi aggiustava le bambole. Io oggi ho aperto uno spazio dove mi posso presentare, dove vi posso far vivere ciò che vivo e poi aggiustava le bambole. Ci troviamo nel mio bambolatorio, questa è la mia sala operatoria ed è il luogo dove realmente io mi occupo della salute dei giocattoli, quindi questi sono i miei due banconi operatori e io con tanto di camice opero e intervengo sui giocattoli. Il bambolatorio perché è un po' come l'ospedale delle bambole, così come l'ospedale delle bambole è stata una voce del popolo, mamma mia che impressione, mi pare proprio ospedale delle bambole e invece tempo fa una bambina entrò nel mio ambulatorio perché io avevo questo laboratorio un po' dislocato dalla vecchia bottega di mio padre, dove mio padre mi ha iniziato a far fare i primi passi di questo lavoro e avevo chiamato ambulatorio per non ripetermi con ospedale delle bambole. E questa bimba che salì a lasciarmi un pupazzo scendendo, disse al padre, disse papà ma questo posto non si doveva chiamare ambulatorio, ma con tutte quelle bambole si doveva chiamare bambolatorio. Beh questa cosa mi è rimasta proprio nel cuore, quindi mi ricordo ancora che la rincorsi perché avevo delle scalette e le dissi da oggi in poi questo posto si chiamerà bambolatorio. Quindi sono molto contenta che anche in questo caso la voce del popolo, anzi la voce di una bambina, ha creato questo nome così speciale. Qui svolgo i miei lavori, quindi le persone, vi dico un po' come funziona tutta questa mia struttura. La struttura funziona come un vero e proprio ospedale e una volta che mi cercate, mi contattate, telefonicamente è molto bella la cosa perché iniziate a raccontarmi precisamente le vicissitudini o il problema che ha avuto il vostro giocattolo nel momento preciso in cui voi l'avete abbandonato, quindi come si trovava all'epoca, come se quel tempo intercorso che siano 10, 20, 50 anni non fosse mai passato. Dopodiché mi affidate l'oggetto e io come un vero e proprio dottore faccio una visita e la visita prevede, la visita è gratuita ma prevede una diagnosi e sicuramente si deve capire anche in quale reparto deve andare, sia oculistico, ortopedico e quant'altro. Una volta che il cliente accetta il preventivo intra e va in libro delle accettazioni e la lista d'attesa, la lista d'attesa è molto lunga, ci sono circa 50-60 bambole all'interno e dopo 2-3 mesi arriva il loro turno, salgono sul bancone operatorio, proprio come questi pazienti che in questo momento sono sul mio bancone, vengono curati, guariti e una volta guariti, perché guariscono tutti, qui dentro non c'è sala mortuaria, e una volta guariti tornano a casa con un certificato di sana e robusta costituzione. Certo c'è una cosa un po' speciale che si chiama codice rosso, il codice rosso è riservato ai bambini, nel senso che se un bambino ha un oggetto a cui tiene in maniera speciale, particolare, è normale che non possiamo farlo attendere due mesi, tre mesi, per cui il codice rosso è un salta fila perché le autorizzo io. Allora, nel mio laboratorio una delle cose che dico spesso è che i nostri pazienti, diciamo noi non facciamo distinzione di classe e di razza, perché il valore di un oggetto non sta sicuramente dietro il fatto che è una bambola che costa un sacco di soldi, perché le bambole non hanno bisogno di essere importanti, anzi talvolta le bambole importanti non sono neanche state così tanto amate, rimaste sempre in una vetrinetta, ferme, non le toccare, non le puoi vedere, invece per noi le bambole che hanno una storia dietro e che sono cariche di emozioni e che in qualche modo sono state amate, rispettate, talvolta anche tramandate come se fossero delle reliquie, questo è l'aspetto più importante che crea tra di noi, tra me e il paziente, diciamo sicuramente un contatto molto più interessante, quindi dipende molto dalla persona che mi porta all'oggetto quanto quell'oggetto è carico di sentimenti, io l'energia che c'è in questo luogo la sento tutti i giorni, qui dentro immaginate che ci sono bambole che hanno visto due guerre, pensate che meraviglia che deve essere, cioè sicuramente avranno allietato un sacco di bambini e questa cosa mi intenerisce moltissimo, perché io sento la loro energia, la sento, la vivo e la rimando in qualche modo, perché la metto in circolo perché è preziosa e la metto in circolo attraverso le mie mani, quindi ogni intervento è un intervento a sé, ogni oggetto è un oggetto a sé, ogni oggetto ha un'anima che anche a volte se non la riconosco ma riesco a sentirne l'essenza e questa cosa mi rende speciale. Questo lavoro che ho imparato è una cosa interessantissima, fondamentalmente mio padre mi ha passato, io gli sono molto riconoscente perché lui oltre alle tecniche di un sapere orale che è qualcosa che non leggi e non puoi studiare in nessun corso, in nessuna università e da nessuna parte c'è un corso per restaurare le bambole, ma loro hanno affinato delle tecniche proprio perché ne hanno viste veramente tante e anche ereditando le vecchie tecniche e rimodernandole anche con i criteri moderni di restauro riusciamo veramente a fare dei capolavori, ma ciò che fa veramente che rende questo posto unico secondo me è il fatto che anche l'accumulo di oggetti e di pezzi di ricambio rendono prezioso il restauro perché talvolta noi possiamo mettere il braccino destro in celluloide del 1920 originale perché abbiamo il pezzo di ricambio e anche se è rotto e noi sappiamo fare il restauro sulla celluloide sicuramente voglio dire se ci mettiamo il braccino nuovo viene ancora meglio. Ricordo che il mio disagio quando all'inizio ho cominciato a lavorare con mio padre, volevo io prendere nelle mani questi contatti e mano a mano mi sono accorta che queste aziende avevano chiuso e c'erano ancora dei numeri di contatto con queste aziende ma erano dei call center che mi rispondevano che le bambole che stavano venendo fuori dalle aziende ma non più italiane ma direttamente dall'estero non erano aggiustabili, che non c'erano i pezzi di ricambio e che le bambole dovevano essere consumate, buttate e comprate un'altra. Questa cosa io mi ricordo che dentro di me io vi come un piccolo trauma perché iniziai a immaginare io come faccio, cioè le bambole devono essere consumate. Poi via via ho iniziato a vedere mio padre come si comportava nei riguardi questi restauri che arrivavano, quindi arrivavano queste bambole super elettroniche, quella che piangeva, quella che parlava e piangeva, l'anno dopo parlava e piangeva e semmai russava, poi c'era quell'altra che aveva la febbre, mal d'orecchie e mal di piedi, cioè questa cosa drammaticissima e quando mio padre si trovava di fronte a questi lavori diciamo tecnologici e elettronici lui sghignazzava con me e diceva, prima il cliente diceva va bene vediamo che cosa si può fare, sicuramente proveremo ad aggiustare la parte elettronica, poi appena se ne andavano si diceva che faceva papà ma come si fa, non hai più pezzi di ricambio, ci sono tutti i chip, cosa facciamo? E lui mi rispondeva ma che ce ne importa, noi ora lo sai che facciamo, la rendiamo ignorante e facciamo felici le bambine, ma che significa papà ignorante? E lui mi disse, noi tagliamo tutti i fili, mettiamoci dentro l'ovatta perché il bambino che piange o che ride non gli frega niente, vuole lui fare in modo che il bambolotto pianga, rida, per cui per lui l'ignoranza era della bambola perché lui voleva consentire ancora alle bambine di sognare e di immaginare un personaggio, a oggi vi dico che molte di queste bambole hanno perso personalità perché ne hanno troppa, cioè se la bambina compra una bambola che già è un personaggio di un film, che già fa delle cose, che già canta, ciao bambola che succede? Te la metti lì, te la guardi, dopo un po' la devi buttare perché ti dà fastidio, ti innervosisce, fa tutto lei e la tua fantasia dov'è? La famiglia Grassi si è occupata anche molto di restauro sacro perché se è vero che abbiamo incominciato, diciamo, il mio bisnonno ha iniziato a restaurare, diciamo, i pupi, oltre a fare le scenografie del teatro dei pupi. Poi ha affinato le tecniche sulle bambole, ma mio nonno Michele, insieme a mia nonna Giovanna e con l'aiuto di mio padre che iniziava i primi passi, diciamo, imparando il mestiere di restauratore, hanno restaurato nel dopoguerra la maggior parte delle statue sacre che sono nella città di Napoli, specialmente nel centro storico. C'è una chiesa molto bella che ha una collezione di pastori a grandezza naturale, quindi loro li hanno tutti quanti rivestiti, ristrutturati. Ci sono addirittura delle vecchie fotografie di mio padre dove a casa avevano tutti questi manichini giganti perché i pastori erano come dei manichini giganti ed erano sculture molto antiche. Chi viene con un bambino Gesù mi dice, dottore, ma è già stato questo bambolotto mio? Poi, scusatemi, è un bambino Gesù. E la stessa cosa succede quando mi porto una madonna. Dice, chissà, bambolella mia, scusate, è la madonna. Napoli, c'era mio padre, gli diceva una cosa bellissima su Napoli e io credo che proprio aveva proprio ragione. Gli diceva che Napoli era come una giostra, che tu ci dovevi salire, facevi il primo giro, poi scadeva il tempo e poi andavi a comprare un altro gettone che volevi fare il secondo giro. Perché Napoli tu ti devi lasciare un po' prendere dalle cose che ti succedono? Perché se prendi gli appuntamenti non li rispetta nessuno. Se cerchi di andare in un posto in quell'ora precisa non ci riesci. Allora non è meglio, come diceva mio padre, sali in goppa giosta e farti portare e poi a un certo punto se ti è piaciuta ci fai un altro giro e quindi l'accezione vedi Napoli e poi muori, ma dalla voglia di ritornare. Quindi Napoli è un po' veramente un tuffo nella fiabba, nel grande rumore ma anche nei grandi silenzi, nella grande luce e anche nel grande buio. E io sono silenzio, luce e buio.